La rassegna stampa è stata offerta da I Sapori del Vallo, l'arte di fare la pasta. www.isaporidelvallo.it Buongiorno, ben ritrovati alla rassegna stampa di questo martedì 23 gennaio, una rassegna stampa che apriamo leggendo le prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. Lo facciamo partendo dal mattino di Napoli, in primo piano, la strage di Caserta, terrore e morte in famiglia. Bellona uccide la moglie, poi spara i passanti e si suicida, cava accoltellata dal marito. La follia di un ex guardia giurata casertana, simpatizzante di Forza Nuova, 50 colpi esplosi dal balcone. Il commento e il precipizio del contratto sociale, poi ancora per la politica, sfida di Forza Italia e sgarbi l'anti di Maio. Il critico d'arte, candidato a Pobigliano, la CEI, immorali le promesse a vuoto. Che Europa che fa il realismo delle grandi coalizioni, il nuovo asse tra Francia e Germania, in quello che è lo scenario europeo in attesa di capire chi sarà il nuovo presidente del Consiglio italiano. In taglio centrale, i rettori, università, serve un piano sud. Manfredi, miglioriamo ma non basta il nodo dei fondi. Sciocca, frosinone, abusi sulla figlia, si impicca la madre, accuse non provate. Poi ancora noi siamo pronti a riaprire il giro Lamini, il direttore della biblioteca. Catalogazione conclusa, aspettiamo il sì della procura. Poi ancora le interviste del mattino, questa volta l'ex campione del Napoli Alemà, o questo Napoli forte come il nostro, il campione brasiliano, lo scudetto può tornare. Questa è l'apertura del mattino, noi restiamo sul mattino ma ci trasferiamo sulla pagina salernitana. In primo piano la tragedia di Cava, mia figlia uccisa davanti al bimbo. Parla la madre della vittima, accoltellata a morte, in casa dal marito, anche lui ferito, è gravissimo in ospedale, le indagini, il dubbio dell'omicidio o suicidio. L'accusa il fratello, peggio di un animale, lei non lo ha colpito. L'ultimo posto, la famiglia conta più di tutti. Sanità in taglio centrale, prima pagina, primaria Ruggi, Coscioni, ecco, nominato con Jesu alla guida delle due unità di cardiochirurgia, longa. Ora volare alto, completato il quadro dei vertici dei reparti ospedalieri, colpo di spugna sulle decisioni dell'ex manager del cantone. Istruzione, studenti in fuga, in 2025 rinunciano alla maturità, le previsioni dell'ufficio scolastico scatta l'allarme rosso per l'evasione. Politica, PD, vertice fiume, da Luca Casillo, siglata la pace imposta da Roma, Movimento 5 Stelle, candidati già sul campo, Tofalo diventa traghettatore. Poi ancora il Tar, così il Tar sfratta la prostituta dal marciapiede, e poi c'è il giallo della dicesettenne che muore in casa dell'amica. Questo dunque ci riporta il mattino Salerno nella pagina di oggi. Restiamo sulla pagina saleritana del mattino per parlare di politica, di quelle che sono le candidature. Si parte dal PD, vertice fiume, da Luca Casillo, siglata la tregua imposta da Roma, faccia a faccia a Palazzo Santa Lucia, ipotesi di rimpasto dopo il voto. Sette consiglieri regionali pronti a correre in certezza intanto sulle deroghe. Centrodestra, il recaso spinoso del collegio di Salerno, Fasano, Cascello nel listino, pressing di Berlusconi per Tommasetti, per Tommasetti e la Ferraioli. Intanto, per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, Tofolo fa già il traghettatore consolidato dalle parlamentari e Cioffi. Io non mi arrendo mai. I candidati del 5 Stelle, che già sono noti, la Bilotti battaglia dopo il flop delle regionali, a Roma spinta dal tarro della giustizia, Giordano uno scranno al Senato, la passione giusta per cambiare tutto. Questa è anche la pagina politica del mattino. Noi continuiamo con le prime pagine, ci spostiamo sulle cronache del Salernitano. Sentenza discutibile, abuso di una quattordicenne, se la cava con 5 mila euro. Era ospite della casa famiglia, il chicco di grano della Coppi, il Delfino, l'orco era un operatore, paga e patteggia due anni ed è libero. Il comune che paga fior di soldi, nemmeno parte civile. Tragedia a cava dei Tirreni, l'uomo tenta di ammazzarsi, in grave condizioni ammazza la moglie davanti al figlio. Salvatore Siani, detto schizzo, hanno ucciso Nunzia Maiorano, lavora come barbiere al Greenman Barbershop di Salerno. Ruggi vince la politica, Coscioni primario, nominato anche Sevedino Jesu. Battipaglia, chiesti 21 anni per Biagio Parisi e 20 per la moglie Alda. la tragedia di Nocera Inferiore, il 17enne radicava giallo sulla morte di Angelo Piccolo e la papà titolare di una autoscuola. Infine, domiciliario carcere, il giorno più lungo per la Liberti, oggi decide la Cassazione. Questa è l'apertura di le cronache del Salernitano, ora andiamo invece sulla città di Salerno, sempre la cronaca in primo piano, massacra la moglie dopo il falso perdono su Facebook. Femminicidio a cavo dei Tirreni, folle gesto di un barbiere, Salvatore Siani, lavora a Salerno, anche lui ferito, prima accompagna i figli a scuola, poi in casa con un coltello, colpisce Nunzia Maiorano. In taglio alto, Ruggi le nomine primari, due cardiochirurgie con Jesu e Coscioni. Noce era inferiore, muore a 17 anni, in casa dell'amica, e giallo sulla morte di Angelo Piccolo. Poi ancora Salerno, violentata una quattordicenne, gli costa 5.000 euro, ancora Salerno, sottrae mezzo milione dai conti dei clienti. Poi ancora la politica, centrodestra, Azzurri e Fratelli d'Italia si dividono i seggi, Quarta Gamba, K.O., poi le emergenti, 2.5 stelle, Anglisani, la docente, Milotti, la penalista. Scuola, aule vicinanza, la professoressa all'attacco, pericolo di crollo, invece chiuso, un istituto a Cava dei Tirreni. in taglio basso, musica e sociale, avvitabile e celebrato dai gesuiti, lungo saggio per il cantautore, sulla rivista Civiltà Cattolica. Questa è la prima pagina della città di Salerno, chiudiamo la nostra carrellata, andando a leggere l'apertura, De Il Roma, il quotidiano della Basilicata, si parte dalla politica, il rimpasto sanitario taglia cugno, ieri a sorpresa arriva la scelta del governatore Pittella, al CROB va Bocchiccio, che lascia l'ASP a Chiarelli, il pensionato Maglietta resta in sella, ma diventa commissario del San Carlo. Poi ancora, capoluogo, trasporti urbani, l'accuso della CISL, la nuova proroga a Trotta, è solo una trovata elettorale, Rio Nero, le strade urbane del Terzo Mondo, i rattoppi non risolvono le cose. Castelmezzano, Alessandra Romano, partita dal Borgo, è approdata sui set di Los Angeles, Lago Negro, Michele Canonico, ora è cavaliere, i suoi migliori orologi, dalle torre del sud. Potenza, sicurezza cittadina, chiusa e chiude, l'Africa Shop, il questore abbassa la strada cinesca, al market dei migranti, dopo i casi di droga e prostituzione. Una denuncia a Pietragalla, spara ad un cane, stanato dai militari. In descrizioni, si è l'autopsia, giallo Sanzanelli, non c'è violenza. Per lo sport, in serie D e lotta a due, tra Potenza e Cavese, il Francavilla procede, a piccoli passi, verso la salvezza. In eccellenza, Socerlago Negro e Rotonda, filano le armi, nella lotta al primato, mentre il Melfi risorge. Questo dunque, la prima pagina, del Roma, e noi così chiudiamo, la prima parte, della nostra rassegna stampa, ci vediamo dopo la pubblicità, per la seconda parte. Seconda parte, della rassegna stampa, di questo martedì 23 gennaio, una seconda parte, che ci porta a leggere, le pagine interne, dei quotidiani, o cinedicole, e partiamo, dalla cronaca, quella che è avvenuto ieri, nel Casertano, Uxoricida, spara dal balcone, feriti, cinque passanti, poi si uccide. Bellona, cinque ore, barricato in casa, la figlia, è riuscita, a fuggire, la gelosia, i litigi, la guardia giurata, aveva più volte, aggredito la moglie, il 118, infermieri, ammessi in casa, troppo tardi, per tentare, di soccorrere, la donna, la criminologa, il militare dell'esercito, ha tentato, di convincere, la guardia giurata, ad arrendersi, per evitare, l'assalto, armato, la ricostruzione, della vicenda, il personaggio, il vigilante assassino, vicino a Forza Nuova, il padre di Mangogrida, Davide, fermati, questa la parola, dopo il diploma di geometra, era migrato, gli amici, una testa inquieta, così viene descritto, l'uomo, la vittima, Anna Carusone, 49 anni, non voleva lasciare il marito, come farebbe senza di me, poi, il tiro al bersaglio, bombola del gas, lanciata dal secondo piano, poi la raffica di proiettili, infine, l'irruzione, nell'appartamento, di Bellona, durante il brizio, dei carabinieri, trovati due fucili, e tre pistole, stavo per entrare, nel bar, poi ho sentito, un bruciore, alla fronte, Miriam, sotto ciò, che è stata colpita la testa, sono viva, per miracolo, questa è la cronaca, più importante, che occupa le prime pagine, dei quotidiani, oggi, noi andiamo avanti, e parliamo però sempre, di attualità, andando a leggere, e sfogliare, le pagine del mattino, dedicate all'area, della città, scusate, dedicate all'area sud, della provincia, si parte, dalla pagina, di Agropoli e Capaccio, Capaccio Pestum, una discarica a cielo aperto, lungo a 13 chilometri, il litorale, invaso da plastica, bottiglie e alghe, portate a riva, dalla mareggiata, occorre una sinergia, tra pubblico e privato, per ripulire, tutta la nostra costa, Agropoli, giù i manufatti abusivi, realizzati dal Lido, Oasi, in taglio basso, Capaccio Pestum, due assunti, un vigile urbano e un amministrativo, il municipio di Agropoli, se ne fa caos, ricò, allievi disabili sensoriali, ok all'assistenza, nella pagina, Cilento Alburni, zanzare, insetti e sporcizi, all'orbitorio, e un'indecenza, all'ospedale di Vallo, anche una sala d'attesa angusta, e servizi igienici esterni, i sindacati, struttura fatiscente, molti disagi, per chi deve far visita, ai defunti, ottati, crisi cardiaca, stronca, un 34enne, soccorsi difficili, l'uomo pesava, 200 chili, in taglio centrale, le piogge, non ci daranno più acqua, per l'estate, l'allarme del geologo Ortolani, anche nel 2017, piove molto, ma pozzi e fiumi, rimasero a secco, celle di Bulgaria, la Lipu oggi dona, i sei nidi artificiali, per i parchi pubblici, in taglio basso, vassallo, un appello a Mattarella, non fermate le indagini, il 10 febbraio prevista, una marcia ad Acciaroli, queste le pagine, di Agropoli, del Cilento al Burri, ora ci spostiamo, invece sulle pagine, del Valo di Diano, della città, che ci portano, a parlare nuovamente, della vicenda, legata a quella, che di fatti, è passata alla cronaca, come la strage di Silla, Paciello, unico responsabile, della strage, le motivazioni, della Cassazione, sull'incidente, che causò, quattro giovani vittime, a Sassano, l'impianto frenante, non c'entra, dunque arrivano anche, le motivazioni, della Cassazione, dopo circa 60 giorni, dalla sentenza, che ha confermato, la condanna a 10 anni, e 4 mesi di declusione, inflitta, dalla Corte di Appello di Potenza, a Gianni Paciello, che quindi, si spiegano anche, le motivazioni, a Mianto, avviate le procedure, di bonifica, ad Auletta, le segnalazioni, di un cittadino, ha reso possibile, l'intervento, in località, Pompeano, senza clientele, il sindaco, che querela, la minoranza, San Rufo, multestradali, parte, il recupero, coattivo, questa, dunque, la pagina, valdianese, della città, ora, ci spostiamo, invece, sulle cronache, del Salernitano, si parte, qui, da Albanella, i cittadini stanchi, dei tanti furti, nasce il Comitato, per la sicurezza, una iniziativa benedetta, anche dal primo cittadino, Renato Iosca, poi, ancora, Agropoli, il Comune, abbatte, l'idoasi, emessa un'ordinanza, di demolizione, per il fabbricato, bar, ristorante e pizzeria, una sentenza del Consiglio di Stato, pone una pietra tombale, sulla vicenda, dello stabilimento balneare, i luoghi sono da ripristinare, Eboli, scarico di acque reflue, nelle fogne, sequestrato, laboratorio di analisi, infine, sala consiglina, edificio scolastico, Sant'Antonio, il Comune partecipa, al bando del MIUR, per la ricostruzione, l'avviso, prevede diversi interventi, di sistemazione, questa è la pagina, di Le Cronache, ora apriamo, invece, il capitolo sportivo, andando sulle pagine, del mattino, si parte, dall'intervista, fatta all'ex azzurro, Alemao, classe, armonia brasiliana, adesso, il Napoli, è da scudetto, Alemao, esalta, Alan, peccato, non abbia spazio, nella Sere Sao, si rivede, nel mediano, diventato, il leader, del centro campo, su Sari, maestro, sa trasferire, le sue idee sul campo, un modello, calcistico, mondiale, gli azzurri, sono più maturi, il titolo, può essere deciso, da qualche, dettaglio, lo staganovista, Sari, punta, un record, e il mondiale, vuole migliorare, lo score, personale, di tre, meretti, in campionato, aspettando, la chiamata, del Brasile, come Mertens, e Caglione, è stato schierato, in tutte le uscite, ufficiali, degli azzurri, questo, un solo, cartellino, giallo, in campionato, nella finale, di partita, vinta, contro il Milan, a San Siro, e andato a segno, invece, nelle gale, contro Benevento, Sassuolo, e Sampdoria, Restando sul Napoli, si parla di mercato, Blitz di Giuntoli, in Portogallo, vuole Grimaudo, dal Benfica, l'agenda Emendesh, può essere il tramite, dell'operazione, il terzino, è valutato 30 milioni, per giugno, prosegue intanto, il pressing, per Politano, del Sassuolo, e il tedesco, Iunes, dell'Ajax, in uscita, Giaccherini, ha l'accordo di massimo, con il Chievo, ma aspetta, l'ok definitivo, per quanto riguarda, le altre di mercato, Roma, doppio addio, Giacco pronto a raggiungere, Emerson al Chelsea, il bomber bosniaco, sarebbe stato confinto, da una telefonata di Conte, il club giallorosso, incasserebbe 40 milioni di euro, l'Inter intanto, prepara le cessioni, di Gio Mario, ed Er, la Juve, invece, smentisce, l'interesse, per Balotelli, lasciamo, il pallone, e il Napoli, per parlare, ora invece, di Salernitana, Salernitana, che dopo la vittoria interna, contro il Venezia, chiede, rinforzi dal mercato, dove è tutto, in bilico, dice quest'oggi, la città, Colantuono, vorrebbe, ancora tre rinforzi, un attaccante, e due mediani, varie richieste, per Bocalon, con il cui futuro, è da decidere, intanto, il giovane vecchio, che marcava Messi, dall'Under 20, dell'Argentina, a quella rete, in estate, che valse, un biglietto, per la Rechi, e la storia, di Diego, di Tiago, Casasola, ieri, intanto, il posticipo, contro la Ternane, previsto di lunedì, scatta, intanto, la marcia di avvicinamento, al Volpe, per quanto riguarda, il mercato in uscita, il rifiuto, il gol, ai messaggi, Zito, ha svuotato, la valigia, il mancino napoletano, decisivo con il Venezia, si è sfilato, dalla lista dei partenti, dove il massimo, accettando questa squadra, quando stava retrocedendo, in Serie C, infine, il Made in Salerno, cresce insieme al calcio, il tifo per i Granata, può essere una chance, per muovere, le tipicità locali, e valorizzare, il territorio, ne è convinto, il presidente, di Coldiretti, Salerno, questa dunque, la pagina sportiva, e noi, con lo sport, chiudiamo, questa edizione, della Rassegna Stampa, dandovi appuntamento, alle 13.45, con l'edizione pomeridiana, del nostro telegiornale, ricordandovi, che tutti gli approfondimenti, sono disponibili, sul sito internet, www.unotvweb.it, io intanto, vi ringrazio, per averci seguito, e vi auguro, buon proseguimento, di giornata. www.unotvweb.it, Grazie a tutti.